Giuseppe Robilatta, a distanza di 24 ore dal gravissimo attentato incendiario, e non è la prima volta che accade, che ha coinvolto la GELAS Multiservizi, lei si è fatto un'idea di chi può avercela proprio con la società del Comune di Gela? Guardi, noi ci ripetiamo ovviamente alle forze di polizia che sicuramente dovranno trovare una soluzione a quella che ormai è diventata una storia che incomincia veramente a dare fastidio, perché si rimane sgomenti di fronte ad una società che in fondo si occupa di servizi rivolti ai cittadini, alla città, quindi non trovo il nesso tra fare queste azioni da criminali, è quello che svolge la società. Però come sottolinevamo non è un caso isolato, già in più di un'occasione proprio la GELAS Multiservizi ha subito degli incendi. Sì, non è un caso isolato, perché ricordo che noi siamo in una struttura del Comune di Gela, noi siamo tra virgolette il Comune di Gela, noi siamo una società partecipata, una società in house providing, quindi di proprietà del Comune di Gela al 100%, ci consideriamo come il Comune di Gela, svolgiamo servizi esclusivi, monomandatari e il Comune di Gela, noi facciamo servizi solo per il Comune di Gela, per cui non riesco a comprendere quale possa essere la finalità, cosa passi nella mente di chi fa queste azioni criminali. I rapporti sono distesi all'interno della società, tra i lavoratori, con l'amministrazione, con il Comune, quindi è inspiegabile, veramente inspiegabile, come possano succedere queste cose. Chiederò una riunione anche con il sindaco, con l'amministrazione comunale, perché questa volta non passi questa cosa così come tutte le altre volte, cioè con una denuncia fatta, dobbiamo fare quadrato su questa vicenda, cioè trovare soluzioni, cercare di trovare soluzioni. Sostanzialmente si colpisce la chiela, si colpisce il Comune? No, si colpisce se stessi, secondo me, perché colpire la chiela, se colpire il Comune di Gela, il Comune di Gela siamo noi, siamo i cittadini di Gela, e colpire se stessi, cioè dare un colpo al cuore, ritengo, della città, perché la chiela, se ricordo a tanti che non lo sanno, è una partecipata che non è una scatola vuota, cioè una società che eroga servizi, tanti servizi per la città, a volte tra mille difficoltà, però è una società sana, una società che vuole lavorare, una società che non posso lamentarmi di nessuno dei dipendenti perché sono tutti impegnati a fare il bene di questa città e a fare bella figura a questa città, al di là dell'amministrazione comunale, con Fasulo, con Messinese e con quelli che eventualmente verranno.